Presidente Vendola, il Premier Matteo Renzi dà la Merkel a parlare della crisi greca, mentre in Parlamento si discute anche delle conseguenze che ci possono essere sull'Italia di un'eventuale uscita della Grecia dell'euro. Era abbastanza impressionante vedere il contrasto tra Alexis Tsipras, che si è rivolto al popolo greco, con un discorso di grande dignità, rappresentando un governo con la schiena dritta, che non intende subire le punizioni e le umiliazioni di Bruxelles, di Berlino, non della burocrazia europea, come dice Renzi, ma della politica europea. E dall'altro lato vedere invece il nostro Premier Matteo Renzi come un pulcino con la sua chioccia, accanto alla signora Merkel, ripetere come una litania ciò che tutti sappiamo essere insopportabile. Le regole del gioco che hanno deciso i signori della Troica rappresentano un gioco al massacro per parti consistenti della popolazione europea. Credo che davvero dobbiamo stare con il popolo europeo e con Tsipras perché lì si apre una possibilità dire no all'Europa delle lacrime e sangue per dire sì all'Europa dei diritti e del welfare. Ho visto che Renzi giudica un errore il referendum che ha indetto Alexis Tsipras. Matteo Renzi è un Premier non votato, non eletto. si rivolge a un Premier votato che in campagna elettorale ha promesso di portare alla consultazione del popolo greco gli esiti del negoziato con la Troica. Mi pare che chi considera la democrazia un errore sia sulla cattiva strada. Renzi è sicuramente sulla cattiva strada. Tsipras è sicuramente sulla buona strada. Non la fine dell'Europa e neppure l'uscita dall'euro. Quello che dice Tsipras è costruiamo un compromesso socialmente sostenibile. Cioè costruiamo un compromesso senza continuare a violare i diritti umani delle persone più vulnerate come è accaduto in Grecia. Ecco, forse che di queste cose possa parlare la politica e non soltanto il Papa mi parrebbe una buona notizia. Una vittoria dei noi.